Amici di Radio Bruno, è venuto a trovarci Mahmood. Guardate qua, tutta gold, proviamo. Il gadget più assurdo, più bello che ci sia. Solo tu potevi portarlo, Alessandro. Secondo si spegne, però. Speriamo? Sì, si è spento. Si è spento, ok. Ciao, innanzitutto, ciao. Complimenti, la canzone è meravigliosa e tu sul palco. È una cosa incredibile. Grazie mille, guarda. Spero di fare sempre meglio. Ieri ero un po' agitato, però sono molto felice. Mi stanno scrivendo un sacco che sta piacendo il pezzo, ci ho lavorato tantissimo. Poi comunque è un po' il primo brano che rappresenterà il mio disco che uscirà il 16 febbraio nei letti degli altri. Quindi diciamo, sono... Ah, pure il biscotto. Eh, ragazzi, siamo preparati qua. Cellulari, biscotti, poi abbiamo Gratte e Vinci. Cosa ci mancano? Le mutande con il selfie. No, niente, a parte gli scherzi, sono molto felice, in realtà. Ma poi mi hanno detto che canto stasera, che sono ottavo. Sì, sì, ci sei. Ragazzi, forza e coraggio, dai. Ma come è nata questa canzone? Raccontaci un po'. Questa canzone è nata, in realtà, quest'estate, perché è venuto Catu a Orosei, da me in Sardegna, no? E ha preso questo Airbnb e ha fatto uno studio dentro l'Airbnb. E quindi facevamo la mattina session e poi andavamo in spiaggia al pomeriggio. E io avevo già dei testi scritti, no? Diciamo, lui ha iniziato a suonare al piano questa armonia che faceva... E allora io da lì ho iniziato a fare una melodia, poi sono andato in spiaggia a scrivere il testo. Mi ricordo certe parole, mi ha pure aiutato mia cugina Franca, mi ricordo che ero in spiaggia. No, e poi diciamo, il ritornello è stato un po' più complesso, perché ne avevo scritti 4-5 e facevano tutti un po' schifo. Poi ci siamo ritrovati in studio a Milano con Jacopo e Torre e allora mi aveva fatto sentire questa melodia killerissima e da lì abbiamo chiuso il ritornello. Poi lo special in realtà è stato scritto mesi dopo, no? Lo special in realtà l'ho scritto... Poche ore prima di decidere di partecipare a Sanremo. Veramente? Sì, sì, perché doveva essere in realtà il testo dell'intro del mio disco, solo che volevo che Tuta Gold assumesse un significato un po' più profondo per me, no? Perché è un viaggio, è un viaggio che parte da un ricordo presente di quest'estate. Io ho un rave con dei miei amici fuori dalla tenta che fumevamo, no? Guardando ora Luna. E ripercorre un po' una mia relazione adolescenziale, ripercorre anche più momenti, diciamo, profondi del mio passato, no? Nello special. Perché la Tuta Gold per me è un po' una metafora di come mi sono comunque rafforzato negli anni, grazie a tutti questi episodi, no? Quindi, ecco. Eccomi. E per quel che riguarda invece l'album, a livello musicale, ci sarà un filo conduttore? Certo, sì, 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 sì. Io comunque, nei letti degli altri, sarà un album forse il più empatico che io abbia mai scritto, perché è un album che è specifico sulle relazioni, no? Ma parte tutto dal nucleo, il nucleo del disco alla fine è il letto, il letto è un posto un po' più intimo, dove porti le persone che ami veramente, i migliori amici, dove comunque torni la sera, guardi il soffitto, pensi alle tue paure e problemi, dove tradisci, vieni tradito. Succedono tante cose nel letto, capito? E quindi, diciamo, la frase che mi ha fatto venire in mente di chiamare il disco così è proprio potremmo parlare anziché immaginarci nei letti degli altri per dimenticarci. Quindi il nucleo del disco è un po' questo, è un po' come sono maturato emotivamente in questi ultimi due anni e mezzo in cui ho scritto il disco, raccontando tutte le mie storie. A proposito di emozioni, passiamo a venerdì. Allora, ci sarà molta Sardegna, ma anche un omaggio incredibile a Lucio Dalla. Ragazzi, non vedo l'ora, sono troppo felice, troppo, troppo felice, perché questo è uno dei miei pezzi preferiti come Profondo al mare della musica italiana in generale. Il testo è veramente super moderno, super attuale. Si parla della libertà paragonata al mare, che comunque è al pensiero paragonato al mare, che il pensiero non è che lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, quindi è un testo che per me è di una profondità immensa e sono super contento di portarlo con un po', diciamo, il simbolo della musica tradizionale sarda, che per me sono i tenores di Bitti, perché io comunque tutte le stati sono cresciuto anche in Sardegna, quindi ho un rapporto, il mare in questa canzone ha tanti lati che mi rappresentano, soprattutto il mio legame con il mare della Sardegna e quindi io credo di aver fatto la scelta più giusta per questa canzone. Lo crediamo anche noi, secondo me ci sarà solo pelle d'oca e un'emozione incredibile. Hai fatto tanti Sanremo. E questo come lo stai vivendo? Come gli altri, cazzo. Infatti non capisco. Cioè, ieri tipo ho detto, dai che bello, salgo sul palco stasera, tutto bello carico, gasato, no, spacchiamo. Il tempo di mammo, descendi le scale, ti sale tipo un magone qua, mi blocca il respiro, poi era pieno di palline di carta, cercavo di pulire il palco per non inciampare. e niente, panico totale ieri. Ed è andata la grandissima, cioè immaginate. No, ma infatti posso dire, non mi aspettavo assolutamente di stare tra i primi cinque nella lista, mamma mia. Spero di fare sempre meglio. Assolutamente. Grazie mille Mamoud. Grazie a te. Grazie.